un nuovo episodio del segreto ci attende questo pomeriggio martedì 16 giugno 2015 a partire dalle 16 e 10 su canale 5 candela dovrà spiegare a tristan il motivo della presenza di riccardo terence nel frattempo cercherà di farsi accettare dagli abitanti di puente viejo notizie importanti arriveranno anche sul fronte fernando il ragazzo infatti sta per svegliarsi ecco le anticipazioni a puente viejo si sta consumando il secondo giorno della fiera del bestiame e danibal approfitta della ricorrenza per presentare la sua famiglia quella di rafael il giovane ha un piano ben preciso in mente che riguarda isidro l'arrivo di terence il marito di soledad ha suscitato curiosità ed anche un pizzico di timore negli abitanti del paese specie in dolores terence ha deciso di puntare proprio su di lei per far breccia nel cuore dell'intera puente viejo ma in paese un altro arrivo sta portando scompiglio stiamo parlando di riccardo il marito di candela che la stessa donna credeva morto in guerra si tratta di un soggetto molto poco raccomandabile come avremo modo di scoprire nei prossimi episodi candela in ogni caso decide di presentarlo a tristan gonzalo ed aurora fingendo che sia javier suo cognato in ospedale nel frattempo fernando si sta svegliando